Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un video cortissimo. Questo è LuPen, una nuova serie sul Netflix. E vediamo che c'è il bimbo e il tizio che fa LuPen, o che si ispira a LuPen, che stanno giocando probabilmente con la Playstation a un gioco multiplayer. Ma vediamo cosa succede. Questi giocano, il bimbo lo vedo abbastanza impegnato, il tizio non è tanto impegnato, però stanno giocando. Vediamo a cosa stanno giocando, un gioco multiplayer, sicuramente, perché si trovano con due controller, giocano con... Horizon Zero Dawn, il multiplayer. Netflix, non ci siamo, non ci siamo.